salve a tutti sono master wallace carico 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 ragazzi io vi dico una cosa se mi dovessero chiedere qual è il gruppo muscolare più ostico da sviluppare in un fisico naturale praticamente in gente che non usa le bombe i bombaroli no i falliti quelli ecco se uno mi dovesse chiedere qual è il gruppo più difficile muscolare più difficile da sviluppare in un natura beh io sapete cosa che cosa direi i deltoidi perché effettivamente se ci fate caso in un fisico realmente naturale possiamo anche vedere un certo grado di sviluppo fisico certamente ci può arrivare a un buon livello i nostri ragazzi che stanno gareggiando per la gara che finirà a giugno già hanno messo le foto non tutti ma le metteranno hanno hanno raggiunto un buon livello e anche negli anni passati tanta gente insomma che ha seguito le mws che segue le mws raggiunge dei buoni livelli però diciamo tendenzialmente fondamentalmente come media se voi guardate i natura in giro andate nelle palestre guardate i natura guardate i deltoidi le spalle purtroppo non ci sono se ci sono sono in una forma molto limitata quasi abbozzata se vogliamo no se poi parliamo di veri natura in gara perché a volte nelle gare così in garette ci vedono anche di veri natura no certe gare quindi e lì e quelle come un marchio di fabbrica si riconoscono perché anni deltoidi che sono praticamente piatti ma hanno un accenno di volume di stondità ma poco mentre invece nei bombaroli un fattore identificativo importante del fatto che sono bombaroli sono proprio deltoidi grossi a boccia stondati quello è veramente perché deltoidi cioè gli androgeni agiscono molto rapidamente nei recettori deltoidi anche nel collo nei muscoli del collo ma soprattutto quando uno comincia a prendere della roba i deltoidi tendono a gonfiarsi e questo è un fatto proprio poi ovviamente ci sono i campioni che hanno dei deltoidi come poi li ci mettono e buttano dentro anche del sintio vabbè comunque quindi sostanza nei natura c'è questa grave carenza che è molto frequente vedere uno dirà vabbè se uno è natura più di tanto non può fare si vede che lì ci sono dei limiti che più di tanto non si può fare ebbene io vi dico che non è così ve lo dico perché intanto io i miei deltoidi da sempre li metto in mostra e da sempre tutti vedono che sono deltoidi incredibili praticamente simili a quelli dei bombaroli e voi direte perché poi molti mi dicono vabbè ma tu sei un caso a parte se uno che è dotato tra lei li dà una vita ecco queste sono considerazioni che non hanno nessuna attinenza con la realtà allora primo non sono dotato non sono dotato l'ho detto molte volte ho messo anche delle foto quando nei primi tempi che mi allenavo non avevo niente nonostante mi allenavo da anni non succedeva niente perché sbagliavo tutto ve lo ripeto un dotato uno che veramente molto dotato sappiate che se anche si allena male comunque nei primi anni giovanili emerge perché se ha questo grande potenziale genetico pur allenandosi male poi specialmente ripeto da giovani che ci sono più risorse ormonali nervose di recupero qualcosa salta fuori di buono da me non succedeva niente quindi io non sono dotato in quel senso inutile che me la state girare perché se fossi stato dotato l'avrei già visto allora il cambio di passo è avvenuto quando ho cambiato a 360 gradi tutto l'approccio al culturismo ma questo per dirvi che non sono un dotato poi ti allena una vita che c'entra quanta gente si allena da una vita comunque da moltissimi anni i loro fisici fisici sono rimasti mediocri o meno che mediocri praticamente tutti se prendete gente che oltre gli che si allenano fin da giovani e ci sono dove sono quelli che hanno sviluppato poi qualcosa di particolare solo perché si allenano da una vita questo non significa niente perché se vi allenate male da una vita rimarrete per una vita sempre mediocri quindi lasciamo prendere queste cose semplicemente i miei dentoidi adesso potete citare anche gli altri gruppi muscolari le braccia gambo che ma i dentoidi vedete io li ho così perché so come allenarli so come allenarli e veramente guardate che io adesso faccio questo video ma c'è veramente tanto 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 da dire sull'allenamento dei deltoidi ovviamente il concetto di base comunque anche il concetto di massa generale massa globale quindi aumento di peso corporeo ecco di qui si attorno fuori il nuovo discorso dell'attore dei conti in banca quindi cicli di massa in definizione massa definizione fino arrivare a un peso corporeo elevato che è ovvio che se voi vi allenate da moltissimo tempo ma non siete manco un hp zero come peso o poco più la massa globale del corpo non è esagerata i dentoidi risentono anche della massa generale del corpo quindi la prima cosa che posso dirvi è comunque diventati più grossi più pesanti possibili negli anni aumentare il peso corporeo ovviamente ripeto con i citi di massa e definizione eccetera eccetera quindi già quello aiuta perché i deltoidi come le braccia risentono anche loro un po della massa globale del corpo poi altra cosa adesso qui vi do delle indicazioni così un po generali chiaramente poi noi i nostri sistemi e le nostre cose quelli che seguiamo li applichiamo proprio in modo certosino ma vi do dei principi generali quindi ripeto prima cosa aumentare nel tempo il vostro peso corporeo quindi a parità di grasso dovete sempre essere più pesanti per quanto riguarda il periodo estivo che è lì che si vede poi si vedono i veri guadagni poi carichi pesanti allora ragazzi carichi pesanti per i deltoidi è veramente una di quelle cose già i carichi pesanti di per sé sono inutili o quasi per la massa ma per i deltoidi proprio assolutamente non serve non non servono non servono e vi logorate le spalle cioè se poi vi volete ritrovare a una certa età con le spalle logorate che non usate pure carichi pesanti cioè se va bene così continuate così se volete fare a certa certa gente i carichi pesanti per i deltoidi non servono è un muscolo che a parte va beh che è fatto con diciamo diviso in tre parti no quindi frontale laterale posteriore tutte queste parti vanno lavorate in modo isolato con esercizi di isolamento mirati e con un lavoro certosino preciso di pompaggio muscolare solo così potete isolarli se caricate cosa volete isolare allora a parte esercizi inutili in sé come i militari press no qui ci sono i fenomeni sì perché io faccio 100 kg di militari press no ma io faccio 102 105 poi guardate loro spalle non le hanno a parte esercizi inutili ma per esempio le spinte con i manubri verso l'alto che anche lì anche lì si vedono esecuzioni che non hanno alcun senso i carichi pesanti anche lì cosa pensate che servono cioè usate tutta forza nervosa e non lavorate il muscolo io vedo dei ragazzini che prendono manubri di anche 20 chili no e poi fanno delle spinte in alto proprio la morte c'è tonnellati di adrenalina poi si guardano allo specchio non c'è minimo compagno non c'è niente ma hanno lavorato in forza nervosa se avessero fatto delle spinte molto più ragionate anche con stili stili giusti con peso moderato sarebbe molto meglio il lento dietro andando un po avanti così marando il lento dietro anche ricaricare veramente vi distrugge le spalle ma non per questo il lento dietro attenzione non è che non è non è un esercizio che non funziona funziona in realtà se lo usate con poco peso e inserite il lento dietro in un certo contesto della routine dove i deltodi sono già molto affaticati quindi comunque sia che con poco con poco peso lavoreranno in modo molto guardate che la tensione sui deltodi nel lento dietro se poi mantenete l'arco di tensione è potentissima ma sono degli esempi ma caricare sul lento dietro non ha alcun senso molti anni fa nella nostra palestra veniva un bombarolo e non da poco che era veramente enorme e faceva il lento dietro con 140 chili c'era la struttura da seduto adesso non c'è neanche più da seduto c'era il bilancier in alto si sedeva staccava lo aiutavano anche a staccare usava questi 140 chili effetti aveva dei dettori enormi ma quello era l'effetto delle bombe perché poi l'ho anche rivisto senza bombe erano spariti ma nell'usare tutti quei carichi lì pesantissimi perché con le bombe la forza era enorme sapete che è successo si è ma proprio in maniera gravissima e si allena ancora ma in maniera molto limitata perché con quel carichi lì si è distrutto le spalle quindi lasciate stare queste cose le alzate laterali ci sono varie versioni le alzate laterali quello che vedo fare nei video dei campioni del presunto di manetti sono tutte versioni sbagliate vanno fatti in un certo modo con poco peso controllate pompaggio acido lattico si possono fare sia con i manubri o sia ai cavi e poi ogni zona ogni zona frontale laterale posteriore ne sarebbe isolata però c'è da dire che il deltoide posteriore dovete allenarlo nel giorno di tirata non quando fate i deltoidi che è il giorno di spinta perché voi quando allenate la schiena no quindi allenati i dorsali tutti i movimenti di trazione che fate il deltoide posteriore lavora sempre quindi ha già un buon carico di lavoro dopo lì è veramente sufficiente isolarlo con poche serie concentrate isolanti per il deltoide posteriore o ai cavi o ai manubri poi ci sono anche altri esercizieti interessanti da fare per deltoide posteriori poco conosciuti quindi il concetto è questo usare carichi che vi permettono un buon pompaggio muscolare con esercizi di totale isolamento muscolare ok attenzione anche qui il discorso poi di abbinare i gruppi muscolari in modo logico ripetono molta gente allena per dire alle spalle quando fa le gambe o allena le spalle quando fa il torace cioè voglio dire dentro di posteriori i gruppi muscolari vanno associati in modo logico non potete fare un mischione il caos muscolare non funziona questo è un altro grave errore chi allena per esempio le spalle facendo le gambe o altri gruppi muscolari che non hanno attinenza di semplicemente disperde energie in cose inutili altra cosa molto importante non potete sovralenare le spalle cioè se voi allenati deltoide tre volte a settimana in modo diretto anche 4 tanto con la multifrequenza 3 4 5 loro dicono va più velenate meglio è ecco il deltoide è un muscolo che tende veramente nella natura essendo anche un muscolo piccolo tende andare anche facilmente in sovralenamento svuotarsi se lo allenate più volte settimana è peggio quindi anche qui vale il principio di allenarli una volta a settimana come si deve e dopo li fate recuperare se avete una quota sufficiente di di carboidrati di recupero e si gonfiono e nel tempo questa massa tende a aumentare ovviamente quando fate diete di nei natura accade questo quando fate delle diete per dimagrire che mangiate pochi carboidrati purtroppo l'intero fisico si svuota i deltodi sono muscoli che nel natura risentono moltissimo dello svuotamento può succedere che un giorno li vedete magari più piatti e siete un po depressi ma è perché sono svuotati nel momento che vi riposate mangiate recuperate si rigonfino sono un po dei palloncini si gonfino e si sgonfino però nel tempo più massa avete e più magari anche da sgonfio anche da piatti mantengono una buona ma una buona misura perché ripeto più grossi sono e meglio è quindi anche altro consiglio non sovralenate le spalle le schede multifrequenza già sono inutili di per sé riguardo al culturismo le fitness si stanno perché tanto la gente nel fitness deve stallare non deve proseguire non deve fare progressi muscolari ma nel culturismo a multifrequenza è proprio a zero le natural quindi non sovralenate poi attenzione discorso ecco qui c'è una cosa interessante il discorso dell'integrazione se voi fate una giusta integrazione con sostanze altamente pompanti altamente pompanti voi avrete intanto una maggiore gratificazione perché vedrete durante l'allenamento davvero come i deltoidi si gonfino una bella sensazione e vi aiuteranno il recupero aiutano anche lo sviluppo quindi gli integratori quelli giusti usati bene sinergie eccetera eccetera aiutano nel natura a fare dei ottimi deltoidi ok sia durante allenamento come il pompaggio per gratificazione ma anche proprio come sviluppo e anche come mantenimento perché anche nella giornata con integratori rimanete abbastanza pieni ci sarebbe ancora molto da dire però queste più o meno sono le linee principali e spiega queste cose spiegano perché nei natura i deltoidi purtroppo spesso sono insufficienti per una una visione estetica che possa stupire le folle la foto commessa qui in copertina una delle tante che ho fatto l'ho fatto anche l'altro giorno in palestra e sono cose che impressionano perché è giusto così dovete impressionare le folle siete nati per dominare e impersonare le folle quindi non rimanete dei mediocri fate le cose giuste non seguite qua presunti campioni presunti maestri che poi vi dicono dicono sciocchezze lasciate stare lasciate stare ovviamente fate le vostre scelte se siete convinti che quello che vi dice un tizio che sia bombarolo o meno che sia credibile o meno se secondo voi prego seguite vedete che cosa che cosa vi porta io noi siamo convinti delle della nostra scelta della nostra strada delle nostre teorie e quindi noi siamo motivati ad andare avanti verso questa direzione ok io vi ringrazio e chi vuol venire con noi sa cosa fare master è qui noi siamo qua vi aspettiamo per far sì che non rimanete dei mediocri va bene la mediocrità fa schifo non dico altro al top